intervistato saccucci oggi partita complicata ma quello che importa sono i tre punti che siete riusciti a portare a casa io avevamo tante assenze e questo indubbiamente in partenza ci ha messo un po in difficoltà perché non era facile preparare questa partita quando appunto avevamo tanti giocatori fuori però io credo sempre che le squadre le vere squadre si sono nei momenti di difficoltà e stasera abbiamo dato una risposta veramente importante sia per la classifica ma soprattutto per la prestazione perché è stata forse la miglior partita sul piano del dell'impegno dell'abnegazione del sacrificio da inizio campionato a proposito di classifica state facendo una stagione veramente incredibile l'obiettivo rimane quello di salvarsi il prima possibile e poi quando se riusciremo ad arrivare playoff in primavera tireremo tireremo le un'abbiamo un'abbiamo un'abbiamo